Il buon Filippo Bisciglia condurrà Temptation Island Winter versione invernale. La formula vincente di Filippo, grande conduttore, non si cambia, dunque il risultato sono comune che sarà positivo. Abituati al dopo reality estivo di Medese, torna però anche nella versione invernale Temptation Island Winter e la scelta è quella di continuare ad avere Filippo Bisciglia in qualità di conduttore del programma in questione. Sicuramente non passa di certo inosservato Filippo, sicuramente non è un personaggio sbagliato ma anzi è un personaggio importante che saprà a mio avviso condurre nel modo migliore che ci sia Temptation Island Winter, va bene, o Winter che dir si voglia. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi e commentate e auguri a Filippo Bisciglia.